Il matrimonio è quel sacramento attraverso il quale l'uno deve rendere felice l'altro e viceversa e l'uno deve raccontare la bellezza dell'altro e viceversa Sembra, ve lo dovete dire, che sembra come quando siete arrivati ora qua ed è questo che deve riempire il vostro cuore, le vostre giornate questo guardarvi come vi state guardando oggi, con questi occhi lucidi e l'amore non è invidioso, l'amore invece non si gonfia d'orgoglio non manca di rispetto l'amore, non cerca il proprio interesse, ma l'interesse dell'altro e poi l'amore copre tutto, spera ogni cosa e perdona ogni cosa e questo è l'amore che viene da Dio 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 e questo è l'amore che viene da Dio